Allora, vediamo come si può utilizzare il foglio di calcolo per risolvere un problema come calcolare una addizione tra due frazioni Allora, innanzitutto, come in tutti i problemi, bisogna capire quali sono i dati di ingresso Se noi abbiamo da calcolare una frazione più un'altra frazione, io potrei scrivere per esempio I primi due dati, che potrebbero essere il numeratore e il denominatore della prima Potrei mettere gli altri due dati, numeratore e denominatore della seconda E in mezzo ci potrei mettere il simbolo di addizione, per esempio Ecco, frazione, mettiamoci un segnalino per dire che questo è Mettiamoci un segnalino per dire che questo è un fratto Boh, ci manca un uguale E poi il risultato finale sarà un'altra frazione Allora, le due opzioni sono scrivere direttamente il risultato finale Oppure fare un passaggio intermedio, per esempio passando per due frazioni equivalenti ma avendo lo stesso denominatore Allora, mettiamoci con un caso reale Facciamo tre quarti Più Un mezzo No, facciamo un terzo Allora, io voglio calcolare la somma tra tre quarti e un terzo Allora, normalmente noi dovremmo fare Il minimo comune multiplo, tre denominatori Quindi ottenere dodici Puoi fare dodici riviso quattro per tre Più dodici riviso tre per uno Questo però significa fare un passaggio intermedio Allora, operiamolo Iniziamo col mettere Le frazioni equivalenti Mettiamoci quindi Come denominatore Del Prima frazione Quindi scriverò Uguale Nella cella Perché voglio che mi calcoli Il foglio di calcolo Il prodotto di Quattro Per Tre Invece di mettere I valori Quattro e tre Inserisco Le celle Che contengono questi valori Quindi faccio riferimento Alla posizione In cui si trovano Non ai valori Che ci sono dentro Se io scrivo Botto In questo caso Botto Dove c'è sta il quattro Per Dotto Dove c'è sta il tre Qui mi calcolerà Dodici E infatti viene dodici Cambiando Un denominatore In automatico Il risultato Si aggiorna Perché lui Va sempre a cercare Il valore Che sta In una cella Specifica Se io l'ho messo All'interno di una formula L'importante Quando si usa Il foglio di calcolo Utilizzare i riferimenti Alle celle Invece che I valori Veri e propri Allora Torniamo al nostro caso De prima Tre quarti Più un terzo Allora Prima frazione Abbiamo il denominatore Nella seconda frazione Possiamo scrivere Esattamente la stessa cosa Cioè Allora Mettiamo più Cioè possiamo mettere Uguale Casella di 8 Per Casella di 8 Quindi anche qua Abbiamo il 12 Ora Come facciamo a trovare I numeratori Allora Noi faremo 12 Diviso 4 Per 3 Cioè L'MCM Diviso il denominatore Della prima Per il numeratore Della seconda Quindi qui in alto Nella casella Che contiene il numeratore Scriverò F8 F8 Cioè la casella che contiene 2 Infatti 4 Lo stesso denominatore Lo stesso denominatore Delle due frazioni Prima Quindi io posso scrivere O Uguale ad F8 Oppure anche Uguale a H8 È assolutamente Indifferente Poi Invece Il numeratore Sarà uguale A La somma dei numeratori Quindi Nel mio caso F6 Più H6 9 Più 4 13 Solliniamo un po' al centro Tutto quanto Quello che c'è in questo foglio Ecco 3 quarti Più un terzo Uguale 9 dodicesimi Più 4 dodicesimi Uguale 13 dodicesimi Allora Qual è Il vantaggio del foglio di calcolo Che Ci permette di calcolare La somma Di due qualunque frazioni Sì l'ho costruito bene Infatti Io posso variare Uno qualunque Dei dati di input Che vale la pena In genere Colorare In modo tale che L'utente sappia Quali sono I dati che deve inserire Potrei anche decidere Di colorare I dati di output In maniera Facciamo sempre Con gli stessi colori Eventuali dati di passaggio Li posso mettere In un terzo colore Ecco In questo modo L'utente sa Perché magari Lo scrivo In una riga All'inizio del foglio di calcolo Sa che deve inserire I dati solamente Nelle celle gialle E sa che Invece Celle azzurre O blu O verdi O colore che uno vuole Troverà i risultati finali Facciamo una prova Allora Un mezzo Più Un terzo Un mezzo equivale a tre sesti Un terzo equivale a due sesti Tre più due Cinque Tutto sembra funzionare Allora Volendo Un altro modo Per ottenere lo stesso risultato Era Scrivere direttamente Il risultato finale Grazie ad una formula Numeratore Quindi scrivo Uguale Il prodotto incrociato Uno per tre Più Uno per due Cioè Il numeratore della prima Per il denominatore della seconda Più Il numeratore della seconda Per il denominatore della prima Nel nostro caso specifico sarebbe per esempio Allora Sarebbe Allora B11 Per D13 Più D11 Per B13 Il risultato finale È chiaramente lo stesso di prima Abbiamo semplicemente evitato di fare dei passaggi intermedi Non c'è un motivo specifico per farlo Le volte in cui si può fare bene Se no Si porta pazienza E si fa una strada un po' più lunga Magari con tanti piccoli passettini L'ideale sarebbe trovare una procedura Rapida Veloce Che Ci permette di ottenere il risultato voluto Nel minore numero di passaggi possibili Ma non è strettamente necessario Allora Il problema può nascere Sia in questa versione Sia in questa versione Se per esempio Noi diamo la possibilità all'utente Di inserire non solo delle frazioni positive Ma anche delle frazioni negative Oppure anche uno zero Se io mettessi zero fratto due Zero fratto due Più un terzo Uguale due sesti E' vero? Beh è vero però Due terzi Equivalente a un terzo Quindi Con questo caso specifico Mettendo per esempio zero Abbiamo visto che Il nostro foglio di calcolo Si potrebbe ottimizzare In un certo senso Cioè Io potrei decidere Alla fine Una volta che ho ottenuto il risultato Di controllare Se È eventualmente semplificabile Oppure no In questo caso Sia il 2 Sia il 6 Sono divisibili per 2 Quindi io potrei In effetti Fare un'ulteriore semplificazione E dire Beh questa frazione In realtà Dovrebbe comparire scritta come Un terzo Ok? In matematica Tendenzialmente si fa così Si semplifica tutto Allora Come faccio però Visto che io potrei ottenere Anche una frazione Sono due numeri strani Molto grandi Oppure Potrei anche non vedere Il fatto che sono Entrambi divisibili Per un certo numero Allora La regola generale sarebbe Che per semplificare Uno dovrebbe trovare Il massimo comune divisore Se c'è Se c'è in questo caso Il massimo comune divisore Tra 2 e 6 Sarebbe 2 Ok? Quindi io Per avere un risultato finale Che sia veramente definitivo Cioè anche semplificato Dovrei dire Allora Questo è il risultato Ma Per essere proprio precisi La frazione Equivalente Ai minimi termini Sarebbe Il denominatore Che in questo caso Sta in F13 Diviso Quindi slash Il massimo comune divisore MCD Aperta tonda Di che cosa? Di quali numeri? Di Massimo comune divisore Di 2 Punte virgola 6 Punte virgola Che nel nostro caso Sono nella casella F11 E nella casella F13 Nella cella F11 Una prima funzione Che è la caratteristica Senz'altro più interessante E più potente Del foglio di calcolo Cioè Una operazione Che facciamo Calcolare a lui Invece di doverla fare Noi a mente Io gli dico Calcolami L'MCD Il massimo comune divisore Di questi numeri Che sono separati Da un punto e virgola Perché Tutti gli argomenti Di una funzione Cioè Tutti Il valore Che dobbiamo Dare Tra virgolette In pasto Ha una funzione Per ottenere Poi alla fine Un certo risultato Gli argomenti Vanno separati Sempre con un punto e virgola Allora Quindi io scriverò MCD Aperta tonda È importante C'è la F11 Punte virgola C'è la F13 Potrei andare avanti Ancora Qui sotto c'è un piccolo aiuto Vedi Qua dice Numeratore Numero 1 Punte virgola Eventuale numero 2 Punte virgola Eventuale numero 3 Si può andare avanti A mettere quanti numeri Si vuole Allora lui In automatico Mi calcola Prima il massimo comune divisore Di questi due Dei valori Che stanno In queste due celle E poi mi fa la divisione Cioè F13 diviso L'MCD Massimo comune divisore Il numeratore Sarà Una cosa molto simile Cioè Il numeratore sarebbe Il numeratore Della frazione Che abbiamo ottenuto Quindi F11 Diviso MCD Cioè il massimo comune divisore Di Come prima F11 Punti virgola F13 Chiusa tonda L'aperta tonda E chiusa tonda Deve contenere Tutti gli argomenti Della funzione Allora Noi abbiamo ottenuto La semplificazione La cosa interessante È che Se io cambiassi I dati di partenza In modo da ottenere Una frazione Che non è semplificabile In realtà Questa parte Sarebbe sostanzialmente Inutile Uno Volendo Potrebbe costruire Il folio di calcolo In modo tale Che Se c'è da semplificare Allora Compara la semplificazione Come in questo caso Invece Se non c'è nulla Da semplificare Queste tre caselle Potrebbero Non comparire Nemmeno Come si fa? Questa è già una cosa Leggermente più avanzata Della funzione Che abbiamo visto prima Ma c'è una funzione Che si chiama Se Che permette Di far comparire Per esempio In una cella Un valore Oppure un altro Oppure nulla Come faccio a decidere Se Questa frazione È semplificabile o no? Questo è già Un sottoproblemo interessante La soluzione In realtà È molto semplice Bisogna Guardare Il massimo Comune divisore Se il massimo Comune divisore È Due Tre Quattro Cinque Cioè Un numero Maggiore di uno Allora Deve essere Semplificata E quindi Devono comparire Anche questi valori Se invece Il massimo Comune divisore Tra il numeratore E il denominatore È uno Come in questo caso Quindi non è Semplificabile Allora Sia l'uguale Sia questo Simbolo Inventato di Fratto Sia il cinque Sei Dovrebbero Non comparire Ecco come si fa Allora Anche in questa casella Dell'uguale Io posso scrivere Una Il nome della funzione Cioè La funzione Se abbiamo detto Che è un po' più complicata Delle altre Perché Come primo argomento Mi richiede un test Qual è il test Da fare? Abbiamo detto Se l'MCD Cioè il massimo Comune divisore Di F11 Punte virgola F13 Quindi Se il massimo Comune divisore Di F11 Ed F13 È uguale Ad 1 Lui mi Deve controllare Deve fare questo test Punte virgola Allora Se è uguale a 1 Significa che Non sono Semplificabili E quindi Io voglio che non compaia nulla Non voglio che compaia Il simbolo di uguale Per non far comparire Un certo carattere Io devo scrivere Tra virgolette Aperte virgolette Per esempio Spazio Chiuse virgolette In questo modo Compare uno spazio vuoto Potrei anche mettere direttamente Virgolette virgolette Nel foro di calcolo Quando si utilizzano Le virgolette È per Inserire un testo Allora Uno spazio vuoto Per noi è da considerare Un testo Se io metto Uno spazio vuoto Tra le due virgolette Comparirà questo spazio vuoto Quindi All'interno della cella Non si vedrà nulla Punto e virgola In caso sia falso Invece Cioè Il massimo comune divisore Tra il numeratore e il denominatore Non è vero Che è uno Per esempio Due, tre, cinque Qualunque altro Allora io voglio che compaia Il simbolo di uguale Che scriverò Tra virgolette Perché è un carattere Il carattere uguale E chiudo la tonda Con questo se Io effettuo Un test O meglio Lo faccio effettuare Al foglio di calcolo Il foglio di calcolo Mi dice Se il massimo Comune divisore Di questi numeratori Del numeratore È uno Non scrivi nulla Oppure scrivi uno spazio vuoto Altrimenti scrivi Un uguale Se io do invio Infatti compare Nulla Ma mettendo la situazione Di prima Cioè Zero mezzi Viene una frazione Semplificabile Qui viene Invece compare Il simbolo di uguale Perché il mio test In questo caso È vero Cioè È vero Che il massimo Comune divisore Tra 2 e 6 Scusa È falso Che il massimo Comune divisore Tra 2 e 6 Sia uguale a 1 È falso Quindi viene scelta La seconda strada Cioè quella di scrivere Il simbolo di uguale Se invece fosse vero L'opzione che viene scelta È la prima Dopo il test Che è quella di scrivere Uno spazio vuoto Ora Questa formuletta Lunghissima Apparentemente Cioè Uguale Se MCD Aperta tonda F11 F13 Uguale 1 Eccetera Tutto questo testo Io volendo Lo posso copiare Perché Di fatto lo dovrei incollare Anche Dove c'è il 5 Dove c'è il fratto Dove c'è il 6 Perché Il test che deve effettuare È sempre quello Semplicemente Al posto del simbolo Di uguale Ci metto questi tre trattini Quindi Se Il massimo Comune divisore Tra F11 E F13 È uguale a 1 Scrivo Spazio vuoto In caso contrario Ci metto Il simbolo Che mi sono inventato Per dare L'idea Del simbolo di frazione Ecco Infatti che è comparso Ecco che è scomparso Stessa cosa qui Qua verrà una formula Complicatissima Perché se io ci aggiungo Se L'MCD Di F11 E F13 È uguale a 1 Allora non scrivi niente In caso contrario Scrivi Il risultato Di questa espressione Che mi ero già scritto prima Cioè F11 Diviso L'MCD Di F11 E F13 Sembra molto complicato Ma la struttura In realtà Della funzione SE È sempre in tre parti E si riesce a capire Qual è la struttura Guardando i Punte virgola Dove c'è un punto e virgola Finisce un argomento Quindi ne ho uno qui E ne ho uno qui Pertanto Il primo argomento È questo Che è Un test Il foglio di calcolo Mi controlla Se il massimo comune divisore Tra questi due valori È uno Dopo il primo punte virgola Compare Quello che Il foglio di calcolo Deve scrivere Il caso Il test Sia Vero E quindi Un bello spazio vuoto Cioè nulla Dopo l'altro punte virgola Compare Quello che deve scrivere Se invece il test È falso Ecco Qua però devo togliere Il simbolo Delle virgolette Perché le virgolette Come dicevo prima Sono Un modo per presentare Dei caratteri Quindi Carattere potrebbe essere Anche il 5 Un carattere Il 5 potrebbe essere Inteso come carattere Come nel codice fiscale O come numero Se si fanno delle operazioni Allora nel nostro caso Visto che Il foglio di calcolo Deve effettuare Una operazione Deve fare Una divisione E deve anche effettuare La ricerca del massimo Comune divisore Quindi devo togliere Le virgolette Perché non sarà un carattere Ma sarà un numero Infatti mi dovrà scrivere 5 Ecco Compare 1 E non compare nulla Anche sotto Possiamo Mettere La stessa 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 Funzione se Quindi se il test È uguale a 1 Non scrivo niente In caso contrario Tolgo le virgolette Calcolami F13 Riviso il massimo Comune divisore E chiudo la tonda Facendo così Il foglio di calcolo Diventa quasi magico Nel senso che Quando serve Come in questo caso Compare la semplificazione Quando non serve Non compare nulla Ok, se è finito o meno, lo decidiamo in realtà noi che costruiamo il foglio di calcolo L'ideale sarebbe costruire un foglio che permetta di risolvere il maggior numero possibile di problemi di quello stesso tipo Di quella classe di problemi, come si dice Quindi se io scopro che il mio foglio di calcolo funziona anche con le frazioni negative, per esempio, sarebbe interessante In questo caso non funziona perché vediamo uscire un sacco di errori Allora l'ideale sarebbe riuscire a costruire un foglio di calcolo che è valido per qualunque tipo di input Qualunque tipo di valore di input Nel nostro caso il problema nasce dal fatto che il massimo comune divisore Excel lo riesce a calcolare solamente tra due numeri che siano interi e positivi Quindi tra 6 e meno 13 è impossibile farlo Potremmo rendere il tutto a prova anche di frazioni negative utilizzando un'altra funzione del foglio di calcolo Cioè la funzione che trova il valore assoluto, che permette di ottenere il valore assoluto di un numero Quindi il numero senza il suo segno Ora se F11 è il numeratore ed F13 è il denominatore E io, diciamo, di base posso semplicemente ottenere il numeratore negativo Allora potrei dirgli di calcolarmi il valore assoluto di F11 Così invece di comparire meno 13 Che poi fa nascere l'errore Mi calcolerebbe l'MCD di 13 e 6 Per farlo serve Il valore assoluto Quindi metto la funzione assoluto di F11 Per essere sicuro posso fare anche assoluto di F13 In questo modo l'errore sparisce Perché lui mi calcola il valore assoluto di meno 13 Il valore assoluto di 6 Potrebbe essere anche meno 6 Per me non è un problema E quindi questo piccolo cambiamento lo devo fare dappertutto Quindi il valore assoluto di F13 Il valore assoluto di F11 Massimo comune divisore Anche qua devo fare valore assoluto di F11 Valore assoluto di F13 Poi, ecco, volendo potrei anche fare prima Cioè mi copio il testo Visto che devo aggiungere un assoluto e una tonda Faccio copia e incolla Ctrl C, Ctrl V E riesco ad essere un po' più veloce Assoluto di F11 Assoluto di F13 Assoluto di F11 Assoluto di F13 Ecco, vediamo se Funziona davvero tutto Sembra di sì Perché stavolta è riuscito a semplificare anche una frazione negativa Volendo Mettere in difficoltà al massimo il foglio di calcolo Si potrebbe anche mettere il meno sotto Ecco qua scopriremo che potremmo ottimizzare ulteriormente il foglio di calcolo Facendo comparire il meno solamente sopra Ma comunque, insomma, è fin troppo Ecco, in questo caso riusciamo ad ottenere la semplificazione anche di una frazione con numeratore negativo Questo è già un eccellente risultato Quindi questo è un foglio di calcolo che Dati in input Due numeratori e due denominatori Cioè di due frazioni Ne calcola la somma E se è il caso Semplifica La frazione riducendola ai minimi termini Grazie a tutti